ciao sono il dottor max che si occupa della pubblicazione dei foglietti illustrativi dei farmaci e non solo in questa nuova serie di video dedicata agli alimenti veterinari ti leggerà i foglietti illustrativi degli stessi prima di iniziare ti ricordo di iscriverti al canale mettere un mi piace al video e commentare con le tue esperienze personali in base ai prodotti utilizzati in modo da avere sempre a portata di mano uno strumento utile a tutti che ti aiuterà ad ottimizzare le cure per la tua salute grazie alle esperienze condivise in questo video esaminiamo l'alimento veterinario tonalite informazioni commerciali titolare acme srl concessionario acme srl confezioni tonalite os 40 buste da 25 g tonalite os granulato 5 kg formulazione 1 kg uguale vitt a 10 milioni ui vitt d3 200.000 ui vitt e 20.000 mg vitt c 34.000 vitt k 12.000 mg vitt b 1 6.700 mg vitt b2 3300 mg vitt b6 5000 mg vitt b12 20 mg vitt h 40 mg vitt p 5200 mg acido di pantotenico 2600 mg acido folico 1400 mg zinco sulfato di zinco monoidrato 10800 mg zinco che lato di zinco di aminoacidi 1200 mg ferro carbonato ferroso 7200 mg ferro che lato di ferro di aminoacidi 800 mg manganese sulfato manganese mono 5670 mg manganese che lato di manganese di aminoacidi 630 mg rame sulfato rameico pentahidrato 3600 mg rame a che lato rameico di aminoacidi 400 mg cobalto sulfato di cobalto monoidrato 67 mg selenio selenito di sodio 10 mg fosfato bicalcico 13.000 mg cloruro di sodio 3000 mg dl metionine 35.000 mg l lisina 70.000 mg indicazioni ideale per integrare razioni alimentari a base di cereali e foraggi apporta in elevata concentrazione vitamine minerali e aminoacidi per soddisfare gli elevati fa bisogno dei cavalli sportivi degli stalloni delle fattrici e dei puledri favorisce il recupero durante l'attività agonistica gli stati di debilitazione organica e le convalescenze favorisce il recupero durante l'attività agonistica gli stati di debilitazione organica e le convalescenze cavalli per sostenere l'attività sportiva stalloni per sostenere l'attività riproduttiva durante la stagione di monta fattrici per sostenere la gravidanza e la lattazione puledri per stimolare l'accrescimento durante ed in seguito allo svezzamento utile nei casi di ritardato sviluppo posologia cavalli 1 2 buste 1 2 misurini al dia puledri 1 busta 1 misurino al dia fonte codifa l'informatore farmaceutico grazie per avermi seguito fino a qui spero di esserti stato utile iscriviti al canale e sarà informato sulla pubblicazione dei nuovi video buon proseguimento ci vediamo al prossimo alimento veterinario esaminato